Buongiorno a tutti, sono Stefano Manfrae, sono titolare dell'hotel Picobello di Jesolo. Siamo in Pineta, zona bella, verde, polmone di Jesolo, zona molto più fresca rispetto al centro. Io gestisco quest'albergo ormai da 7 anni, abbiamo 50 camere, abbiamo camere singole, camere doppie, camere triple, camere familiari, camere per tutte le tasche classiche, camere anche rinnovate e anche molto belle. Offriamo il servizio di camera a colazione e anche il servizio di mezza pensione con la cena. Per chi invece vorreste fare eventualmente anche il pranzo, sempre nel nostro bar ristorantino, abbiamo sempre la cucina aperta con dei primi, dei secondi, degli antipasti, insalatone, degli snack e potete comunque mangiare anche a pranzo. Siamo qui in Pineta di Jesolo, vi ho già detto è molto bello, polmone verde, abbiamo la spiaggia a 150 metri compresa nel prezzo con dei lettini e degli ombrelloni apposta per i nostri clienti. Vi aspettiamo, vogliamo che venite a trovarci. Provate a contattarci direttamente sul nostro sito che è www.hotelpicobello.it oppure direttamente sulla nostra mail che è direttochiocciolahotelpicobello.it Io vi risponderò. Ciao a tutti, vi ringrazio e spero di vedervi presto. Ciao a tutti, vi ringrazio e spero di vedervi presto.